Serata finale in grande spolvero al T-Flight Spellbox, al 350 di King Street, la prestigiosa casa del cinema di Toronto, per il film vincitore del Festival Cinefranco, il più grande, lo ricordiamo, per il cinema che parla francese. Ed eccoci al tanto atteso annuncio dei premi Radio Canada del pubblico, che contrariamente a quanto viene di solito ai festival, qui a Cinefranco ha trovato tutti d'accordo. La palma è così andata all'esame libre di Ismael Ferrucchi, che in questo film sottolinea con umanità e precisione importanti episodi sconosciuti della resistenza algerina ed il sossegno dei musulmani agli ebrei. Secondo nelle preferenze degli spettatori, le premiere home di Gianni Amelio, un lavoro indimenticabile che vi consigliamo di andare a vedere alla sua uscita in Italia, con la 01 Distribution dal 20 aprile.